La prima domanda ci è giunta da Giulia Mastromartino di Rugby Pirates per Giulio Bisegni, capitano delle Zebre. Cardiff aveva un uomo in meno, alle Zebre cos'è mancato principalmente? Sicuramente non siamo riusciti a entrare nel ritmo della partita nonostante l'uomo in più. È stato evidente, sappiamo che possiamo giocare meglio di così e non siamo riusciti però a dimostrarlo. Logicamente con il vento a favore potremmo avere qualche tatticismo in più, però devo essere onesto che con l'uomo in più dobbiamo dimostrare qualcosa che è mancato e che cercheremo di portare come confidenza per la prossima partita contro Newport. E parlavi Giulio del vento, infatti la seconda domanda è rivolta a coach Bradley, quanto ha influito il vento nella partita? How much has the wind affected the game? Yeah, well, obviously the wind had an effect in terms of kicking, calcio, and in terms of tush. Ma, per noi, abbiamo un gioco bene oggi. And our standards are higher than this and our expectation is that our performance is better than this performance today, despite the wind. The wind was for Cardiff as well. So, you have to play in these conditions and then next week it could be raining and then the following week it could be wind and raining. So, you have to still play. So, our disappointment is in that we set our target to be accurate in a number of areas in this match and we weren't accurate enough to put pressure on Cardiff. And they got the win, unfortunately for us. It was too easy for them to get the points today. Il vento, effettivamente, è influito nei tentativi della piazzola o in tush, però complessivamente non abbiamo giocato bene. I nostri standard sono largamente superiori alla performance mostrata questa sera, a prescindere di chi ha vinto o chi ha perso. Le condizioni meteorologiche poi riguardano entrambe le squadre. Siamo dispiaciuti di aver mancato l'occasione di concretizzare alcuni frangenti della partita. I Blues sono stati i più bravi di noi a farlo. E sempre a Coach Bradley, un giudizio sulla prestazione dei giovani, soprattutto nel secondo tempo, e che importanza avranno in questi mesi pieni di impegni. Mike, come giusti la performance dei giovani di Zebre, in particolare considerando i prossimi mesi, quando Zebre non contiene sulle internazioni italiane? As I said, this match for us was disappointing for young and experienced players. We had a very good team out today, I was confident that we would do very well in this match. And, you know, we have days that we are disappointed. And there are other days when we've been in this room and we've been very happy and we've had good wins. And I'm sure, absolutely positive, that we will have more days like that. But we must also accept when we don't play well. And I think it's a good sign for Zebre into the future that we are disappointed and that we have standards that we didn't reach today. And we acknowledge that as a management and as a squad, whether they're young players or experienced players. For me, I think when the international players go into camp for the end of the Six Nations 2020 and for this new competition, the Nations Cup, we will get to see a new crop of Zebre players and see how competitive they can be. And we have six, seven games in that period. So it'll be an exciting time for these players. So, you know, we look forward to that. But, you know, I think today is about the loss against Cardiff. And as Giulio said that, you know, we now challenge ourselves to perform well against the Dragons and hopefully get an away win to balance the loss today. We are obviously dispiaciati della partita, al netto dei giocatori giovani e anche quelli più anziani. And we do have to accept, insomma, the verdict of the partita and accept the fact that there are games like this. It's nice, but it's nice that the young people have these opportunities to confront themselves with the high level. Nella finestra dei test match internazionali non potremo contare sugli azzurri, ovviamente. Avremo sei o sette partite di fila in cui vedremo schierati in formazione in atleti più giovani e vedremo come risponderanno alla prova. Confidiamo di poterci rialzare, di battere già un bel colpo, una bella risposta e torci qualche soddisfazione dalla prossima partita, il 9 ottobre, venerdì prossimo la trasferta a Newport contro i Dragons nel secondo turno del torneo. Bene, se non ci sono altre domande dalla diretta Facebook, allora ringraziamo Coach Bradley e Capitan Bisegni per la disponibilità, come sempre. Grazie a tutti. In bocca al lupo per lunedì che le Zebri si ritroveranno alla Cittadella del Rebbe di Parma, aprendo la settimana di allenamenti in vista appunto del secondo turno del Pro 14 contro i Dragons. Buonasera a tutti. Grazie.